Napoleone Bonaparte, una figura la cui eredità intreccia leggenda e storia, è passato da origini modeste a diventare uno dei leader più potenti d'Europa. La storia della sua vita è un racconto di ambizione, potere e complessità della natura umana. Nato nel 1769 in Corsica, poco dopo Cé divenne territorio francese, Napoleone fu inviato in Francia per studiare. Si formò come ufficiale di artiglieria nell'esercito francese. La sua carriera iniziale fu segnata da una straordinaria attitudine per la strategia militare e la leadership, salendo rapidamente di grado durante i tempi turbolenti della rivoluzione francese. Nel 1796 Napoleone assunse il comando dell'esercito francese in Italia. Condusse una serie di campagne di successo, sconfiggendo le forze austriache e dimostrando il suo genio militare. La sua capacità di ispirare le sue truppe e le sue strategie innovative, comprese le manovre rapide e la concentrazione delle forze nei punti cruciali, gli valsero una fama diffusa. Nel 1798 intraprese un'ambiziosa campagna in Egitto con l'intento di interrompere le rotte commerciali britanniche verso l'India. Sebbene fosse meno riuscito, non ha diminuito la sua popolarità in Francia. Tornò in una Francia politicamente instabile e, nel 1799, prese parte al colpo di stato che rovesciò il direttorio, istituendo il consolato con se stesso come primo console, di fatto il capo della Francia. Nel 1804 Napoleone si incoronò imperatore dei francesi, segnando l'inizio del suo regno su un impero che avrebbe coperto gran parte dell'Europa. Introdusse numerose riforme che ebbero un impatto duraturo, tra cui il codice napoleonico, una codificazione della legge francese. Le campagne militari di Napoleone in tutta Europa furono contraddistinte da vittorie iniziali sorprendenti, sconfisse coalizioni di nemici e ampliò l'influenza francese in tutto il continente. La sua grande armée compì imprese straordinarie, tra cui la famosa battaglia di Austerlitz nel 1805, spesso considerata la sua più grande vittoria. Nel 1812 Napoleone intraprese una sventurata invasione della Russia. La disastrosa campagna, con il suo rigido inverno e le tattice della terra brusiata da parte dei russi, portò a una perdita catastrofica per l'esercito francese. Psiò segnò l'inizio della sua caduta. Con il suo impero ce iniziò a sgretolarsi sotto la rinnovata coalizione dei suoi nemici. Napoleone fu esiliato a Elba nel 1814 ma fuggì nel 1815, tornando al potere per un breve periodo, noto come i Cento Giorni. Fu infine sconfitto nella battaglia di Waterloo e fu esiliato nella remota isola di Sant'Elena, dove morì nel 1821. Napoleone è ricordato per la sua eccellenza militare, il suo ruolo nella diffusione degli ideali della rivoluzione francese e le sue riforme legislative. Tuttavia, la sua eredità è anche offuscata dalla sua spietata ricerca del potere e dalle enormi perdite delle sue campagne. La vita di Napoleone, unendo mito e realtà, è diventata una leggenda, simboleggiando l'ascesa dall'oscurità alle vette del potere, offerto da E-Happypedia.